Musica Elezioni amministrative 2014, il comune di Bova Marina va al voto e quindi siamo con Vincenzo Crupi, candidato sindaco per la lista Bova Marina in movimento. Lista numero 2, una lista che scrive proprio nel nome in movimento per tornare a far crescere Bova Marina e tornarla a far risplendere come un tempo. Partendo innanzitutto, come ha detto durante la presentazione della lista, dall'ambiente. Sì, innanzitutto buonasera, io sono il capolista della lista Bova Marina in movimento. Perfetto, come già abbiamo spiegato in occasione della presentazione della nostra lista, abbiamo deciso di dare questo nome alla nostra compagine proprio per dare il senso che purtroppo il nostro paese, per le vicende note che non sto qui a ricordare, deve, è un paese fermo, è un paese in una situazione di assoluta stagnazione e quindi è un paese che deve ripartire, deve rimettersi appunto in movimento. Quindi il scopo della nuova amministrazione della nostra lista è appunto quello di far ripartire Bova Marina e farlo tornare agli splendori degli anni passati. Per quanto riguarda l'ambiente, è chiaro che anche questo ho fatto un passaggio in occasione della presentazione della lista che a mio avviso la tutela dell'ambiente, che poi anche la tutela della salute e quindi dell'incolumità pubblica alla salute dei cittadini che è un dovere primario da parte di qualsiasi amministratore e il punto più qualificante dell'azione amministrativa di qualsiasi compagine che si accinge a guidare il comune per i cinque anni della consigliatura. Tra l'altro noi puntiamo molto sull'ambiente sia perché lo riteniamo appunto l'elemento qualificante ma anche perché nel nostro territorio purtroppo ci sono grave problematiche legate a questa tematica ambientale. Mi riferisco alla bonifica della discarica, al depuratore, anche al paese insomma che purtroppo il servizio di nettezza urbana poi non è così efficiente. E quindi proprio anche per questo noi puntiamo molto sull'ambiente. L'altro argomento molto importante è quello della raccolta differenziata. Sì, anche questo io non l'ho detto prima per essere un po' più sintetico. È chiaro che quando si parla di ambiente non si può non parlare di raccolta differenziata. Anche questo è la nostra intenzione, attivare finalmente anche qui nel nostro paese questo servizio importantissimo anche perché se non si fa la raccolta differenziata purtroppo la spazzatura ci sarà sempre sulle strade anche perché la politica regionale su questa tematica purtroppo è stata sempre carente in tutti questi anni. Quindi questo è l'unico modo per far sì che il nostro paese si presenti pulito non solo per i residenti ma anche per i turisti visto anche l'imminente arrivo della stagione estiva. Bova Marina, in movimento, un movimento che parte, dicevamo anche e soprattutto dai cittadini che verranno comunque coinvolti, secondo quanto c'è scritto nel programma, in molte decisioni dell'amministrazione. Quindi un'amministrazione che non guiderà il paese da sola ma lo farà passo dopo passo assieme ai cittadini. Io credo molto su questo punto della partecipazione anche per l'esperienza di amministratore che ho fatto in passato perché senza la collaborazione e il coinvolgimento dei cittadini ci potrà essere anche il maradona della situazione ma non farà certamente il maradona della situazione, non farà certamente gol da solo e sempre per rimanere in tema calcistico e per fare un esempio, io sono tifoso giuventino e mi ricordavo che Platini era negli anni Ottanta il fuoriclasse ma poi c'era anche Bonini che correva anche per Platini per fare questo esempio per dire che alla fine da soli non è anche il miglior amministratore di Bova Marina, della provincia, il miglior amministratore del mondo se poi non c'è la collaborazione, lo stimolo, anche le critiche costruttive ovviamente da parte di tutti la situazione del nostro paese rimarrà quello che è Visto che ha aperto con una metafora calcistica, le faccio una domanda inerente allo sport vista la situazione soprattutto degli impianti sportivi del nostro paese cosa farete in merito nel breve termine, nel lungo termine anche perché c'è il problema ad esempio della piscina comunale? E allora, io colgo l'occasione anche per dire una cosa, che io come candidato a sindaco ma come lista, è giusto parlare come lista, noi non abbiamo promesso e non promettiamo nulla promettiamo soltanto l'impegno per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, Bova Marina è ricca, da questo punto di vista è molto ricca bisogna innanzitutto fare una ricognizione delle strutture, vedere quali sono gli interventi primari da fare sulle singole strutture e tenendo conto anche dei vincoli di bilancio il problema così a prima vista è più serio o più delicato riguarda la piscina anche perché a seguito degli intemperi climatiche il tetto della piscina diciamo non c'è più quindi fare questa ricognizione e poi fare un piano finanziario e anche eventualmente noi eventualmente puntare anche a richieste di finanziamento però richieste ovviamente corredate da un'adeguata proposta progettuale altra cosa importante a mio avviso è il campo, lo stadio comunale anche lì bisogna fare degli interventi e poi bisogna anche qui il coinvolgimento dobbiamo ricostituire la Bovese non è possibile che quando gli altri venivano a Bova Marina per giocare a calcio e negli anni precedenti adesso ci hanno superato non solo purtroppo nello sport e nel calcio ma anche in altri settori quindi gli altri paesi nulla togliendo ovviamente non voglio fare questione di campanile però sono andate avanti e non siamo tornati indietro dobbiamo essere noi Bova Marina e tornare avanti ed essere la guida per gli altri paesi del comprensorio anche perché sono molti i ragazzi bovesi che vanno a giocare fuori e non solo sono molte le persone che una volta facevano attività culturale e praticavano il loro tempo libero a Bova Marina venivano anche da altri paesi adesso se ne vanno tutti fuori c'è anche un capitolo molto importante nel suo programma e anche molto lungo riguardo alla cultura e riguardo al tempo libero e quindi alle politiche per quanto riguarda il rilancio ad esempio del parco archeologico Sì, Bova Marina è ricco di importanti beni culturali su tutti ritengo il parco archeologico che può dare anche opportunità di rilancio dell'economia e anche opportunità a livello occupazionale la prima cosa da fare, l'abbiamo anche scritto, è stipulare la convenzione con la sopraintendenza archeologica un'altra idea che intendiamo realizzare è quella anche di stipulare un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale in modo da indirizzare poi le scuole a visitare quindi il parco archeologico già molte scuole fanno le gite didattiche visitando il parco però intendiamo estendere questa cosa quantomeno a livello regionale poi c'è l'IRSEC, c'è il museo agropastorale, c'è la biblioteca che è sicuramente implementata la chiesa di Santo Niceto, insomma come dicevo se uno ha voglia di lavorare è solo l'imbarazzo della scelta da dove cominciare e di lavoro ce ne sarà tanto anche se il lavoro, proprio quello con l'L maiuscola, scarseggia soprattutto dopo questi quasi tre anni di commissariamento che in realtà sono stati molto poveri di politiche per il lavoro ma c'è tanto da fare per rilanciare l'economia del paese Sì, io diciamo che per quanto riguarda questa domanda l'amministrazione comunale deve innanzitutto essere amica e vicina al cittadino per cui deve in un certo senso con gli strumenti che ha incentivare quei privati che intendono intraprendere nuove attività produttive sul territorio e quindi non essere di ostacolo e quindi sicuramente una delle cose che dovremmo fare è anche quella di sburocratizzare gli uffici comunali perché solo così il paese può tornare a rivivere con sicuramente l'apertura di nuove realtà produttive Per quanto poi volevo anche sempre su questo tema un aspetto importante riguarda anche le edilizie che di fatto è bloccata così come anche parliamo di un paese a vocazione turistica però poi sul lungomare non vi è una gelateria e vi è un solo lido quindi anche sotto questo punto di vista l'amministrazione deve essere distributa deve incentivare i cittadini e quindi di primaria importanza l'adeguamento del piano di utilizzazione della renile in mancanza del quale non potranno essere rilasciate nuove concessioni appunto sulla renile così come la sistemazione della via marina e il completamento della protezione della costa attraverso le barriere soffolte insomma di carne ce n'è tanta sulla braccia e nel breve periodo visto che parlavamo di lungomare è dell'estate che sta per arrivare ovviamente i miracoli non si possono fare quindi lungomare se si vedrà si vedrà tra un po' di tempo anche perché ci vogliono i soldi i soldi che non ci sono in un comune in dissesto finanziario ma quest'estate cosa si potrebbe fare? quali interventi nel brevissimo termine si possono attuare? nel brevissimo termine visto che la nuova amministrazione si insederà poi di fatto ai primi di giugno è quella di presentare un paese pulito il mare pulito quindi intervenire sul sistema fognario e sul depuratore esistente anche attraverso un'opera di monitoraggio e di controllo tutto il giorno appunto della rete fognaria rendere fruibile e accessibile la via marina a togliere quelle reti che di fatto sembrano più un recinto da film western direi per le galline la spiaggia pulita fare anche gli accessi diciamo al mare per le persone disabili quindi rendere il più possibile accogliente il nostro paese tenendo conto che la situazione è molto difficile sia per la situazione economica anche per il poco tempo che abbiamo a disposizione quindi concentrarsi su quelle che sono le emergenze e per appunto far sì che ci possa essere una stagione estiva quanto meno dignitosa invece nel lungo termine lei nel programma parla della progettazione europea progettazione europea che in Calabria tutti questi fondi, questi miliardi di euro che arrivano vengono restituiti quasi completamente all'Unione Europea invece sono fondi che potrebbero essere molto utili anche perché è l'unica fonte veramente per poter finanziare un qualcosa in questa città sì, diciamo che i fondi europei spesso donano indietro sia per carenze della regione Calabria ma spesso anche per carenza dei comuni che non hanno strutture adeguate o non lo so, si interessano poco a queste opportunità che vengono dai finanziamenti europei il Comune non ha risorse a disposizione per fare opere di una certa importanza anche dal punto di vista economico per cui noi dedicheremo grande attenzione ai bandi regionali perché i bandi ci sono però poi bisogna partecipare ma non basta partecipare cioè presentare il progetto il partecipare significa prendere contatti con i competenti uffici regionali prima di presentare la proposta progettuale avere anche degli incontri per capire se quel tipo di proposta è coerente con le finalità del bond o meno presentarlo, seguire anche dopo la presentazione quindi seguire passo passo tutto l'iter fino alla missione alla concessione del finanziamento perché se non si fa questo è inutile dire si rifà la via marina e come si rifà è inutile dire faremo le barriere a protezione del litorale e come si fa se non si hanno i soldi quindi questa è l'unica strada che da percorrere cambiamo argomento le politiche per la famiglia le politiche sociali spesso negli anni passati soprattutto sono state messe in secondo piano ma nel suo programma invece hanno un'importanza molto molto rilevante per il rilancio anche della coesione sociale all'interno dei cittadini all'interno di tutta Bova Marina Purtroppo le politiche sociali quasi sempre vengono messe un po' così a margine dell'azione amministrativa perché si dice che portano pochi voti ma noi non intendiamo lavorare in funzione dei voti delle prossime scadenze elettorali ritengo che sia molto importante dedicare ampio spazio alle politiche sociali e quindi aiutare le persone in difficoltà le persone anziane le persone purtroppo con gravi disabilità anche perché noi abbiamo parlato che oggi Bova Marina vive un momento di degrado socio-culturale per cui proprio per questo bisogna stare vicino e attuare politiche volte a eliminare questo degrado sociale socio-culturale che c'è e dedicare quindi grande attenzione alle persone più svantaggiate alle persone che in questo momento soffrono Torniamo indietro all'interno del programma prima parlavamo di lavoro e di attività produttive un passaggio molto importante è quello sul bergamotto bergamotto che se ne parla sempre ma è stato molto sottovalutato quando in realtà è un'essenza ed è un frutto molto richiesto e che a Bova Marina in particolare anche grazie a tutti i campi e tutti i terreni che il comune possiede che sono in realtà lasciati allo stato brado potrebbero essere utilizzati come scrive del suo programma ed essere affidati a dei giovani per poter poi creare sviluppo e creare lavoro in maniera concreta e quindi rilanciare così anche l'economia Sì, oltre ovviamente all'edilizia al turismo il nostro paese vive anche di agricoltura e in questa, non solo a Bova Marina ma in tutta, in questa fascia ionica abbiamo un prodotto che c'è solo qui e quindi va valorizzato anche perché può essere una possibilità un'opportunità, un'occasione per tanti giovani di avere uno sbocco uno sbocco lavorativo ed è proprio per questo che abbiamo, diciamo, nel programma abbiamo, diciamo, tenuto ben presente questa tematica del bergamotto ovviamente poi connesso all'agricoltura e anche la questione delle strade interpoderali per facilitare anche l'accesso a questi, diciamo, terreni dove di fatto viene, si svolge l'attività agricola Un argomento che sta molto a cuore dei cittadini è quello dei tributi i tributi che a causa del dissesto sono alle stelle però anche se c'è il dissesto e comunque c'è un impegno forzato si può fare comunque qualcosa per alleggerire il carico fiscale o comunque ridistribuirlo? Sì, innanzitutto va ridistribuito e va ridistribuito ovviamente scoprendo gli evasori totali i tributi vanno pagati è chiaro che un'amministrazione non può per due, tre, quattro anni non mandare i ruoli e poi mandarli tutti in una volta perché alla fine costringe anche il cittadino onesto che ha sempre pagato e che intende continuare a pagare a non pagare perché una cosa è pagare un ruolo di acqua di 200 euro e una cosa è pagare una volta il ruolo di acqua dal 2008 al 2012 per complessive mille euro quindi va fatta anche qui una politica diciamo attenta in collaborazione anche con l'utenza prevedere anche dei piani di rateizzazione e poi anche se c'è il dissesto vedere e trovare il modo di in qualche modo allentare la pressione fiscale nei confronti appunto degli utenti Allora le faccio una domanda sulla campagna elettorale io so che lei non vuole aprire alcun tipo di polemica però in queste settimane sono stati molto duri gli attacchi che lei ha ricevuto da una parte di opposizione da parte delle liste degli schieramenti a lei avversi però da parte sua e da parte della sua lista quindi tutti i candidati consiglieri non c'è alcuna risposta quindi una volontà di guardare al futuro senza guardare ciò che è stato praticamente guardare quello che è stato il passato ma proiettarsi verso un nuovo futuro una nuova rinascita per Bova Marina ma io dico una cosa che solitamente chi ricorre alla polemica stupida all'ingiuria all'offesa anche personale lo fa perché non ha alcun argomento da portare avanti alcun argomento da proporre noi abbiamo deciso di non rispondere non perché non siamo nelle condizioni di rispondere faccio solo un esempio io invito i cittadini a chiedersi come mai questa alcuni componenti di questa lista la lista numero uno possiamo dirlo tranquillamente parlano fino al 2008 ricordo che dal 2008 al 2011 c'è stata un'altra amministrazione non ne parlano né bene né male come mai ma noi non abbiamo deciso di non fare polemiche ci siamo andati questa linea perché crediamo non vogliamo essere presuntuosi ma crediamo di interpretare l'opinione della stragrande maggioranza di cittadini che non è interessata alle polemiche a quello che è stato fatto non è stato fatto prima perché ormai non si può tornare indietro per cambiare le cose i cittadini vogliono sapere quello che succederà da ora in poi quello che ognuno di noi vuole fare intende fare intende realizzare da questo momento in poi vuole sapere se ancora ci può essere un futuro io ho parlato anche mi piace parlare di presente ci può essere un presente e un futuro per il nostro paese e quindi visto che siamo giunti proprio alle battute finali un appello affinché i cittadini cioè perché i cittadini debbano scegliere la lista numero due con Vincenzo Crupi sindaco io ritengo che invito i cittadini a votare la lista numero due perché ritengo che la nostra lista nulla togliendo alle altre sia la lista che effettivamente può dare una svolta a questo paese perché è una lista in cui c'è l'entusiasmo dei giovani accompagnato dall'esperienza di persone meno giovani ma che hanno avuto ruoli in passato nell'amministrazione e e quindi si è creato il giusto mix tra il rinnovamento il cambiamento che ci deve essere e anche vista la grave situazione in cui si trova attualmente il nostro comune ci deve l'entusiasmo la gioventù il rinnovamento da solo non basta ma alle spalle ecco ci deve essere l'esperienza dei meno giovani che appunto sorregge e porta avanti questo rinnovamento io però colgo l'occasione anche di rivolgermi ai cittadini dicendo che votate la nostra lista per quello che vi ho detto ma votatela per questa e non solo perché nella lista c'è un parente un amico un conoscente un compare votateci se ritenete che effettivamente siamo le persone che possiamo cambiare verso che possiamo veramente cambiare bova marina grazie a tutti Grazie a tutti.